Buonasera, buonasera, buonasera carissima, buonasera amori, grazie. Facciamo un attimo sostenato per il corpo di ballo, venite, stai mandati, ragazzi, ci siamo tutti, ci siamo tutti, siamo tutti eh? Sì, io so una cosa di voi, di te in particolare, che tu sei il soggetto a, come dire, a certe emulsioni che si possono chiamare successioni, è vero? E' bellissimo, perché il brano di questa sera è il nuovo palo del gruppo tempestante, dal titolo Suggestione, e lo presentiamo questa sera a Rea Bonifazzo, Daniela Conti, di un record di produzioni musicali e tutto il corpo di ballo che è prima di noi, guardatevi bene i ragazzi. E possiamo dire che presentiamo questa sera la burocafia ufficiale di questo bellissimo brano, ma voi lo potete ascoltare, ballare, fare la burocafia, ballare a Cumbia, fate quello che volete, ma divertitevi. A Rea Bonifazzo e a Rea Bonifazzo si esibiscono in Suggestione. 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti